Iprese di costruzioni MG Diagrano, tre generazioni a vische dal 1984, opera nei seguenti settori. Costruzioni residenziali e strumentali, riqualificazione del patrimonio abitativo, settore pubblico, ecobuilding. Il tutto con abilità, materiali di qualità ed affidabilità. L'alta qualità del prodotto finito è il risultato del nostro impegno. MG Diagrano a vische in via Enrico Brugo, 30 barra B. Contattateci per un preventivo sopra luogo ai numeri 011 98 37 856 335 70 94 533 349 17 71 141. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.